... ... ... ... ... ... il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Vieni dal tempo di una donna, la Vergine Maria. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Resta con noi, resta con noi. Che sei l'unico, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, cominci e così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, che rimette a noi i nostri debiti, come anche noi rivecchiamo i nostri debitori. E non abbandonati alla separazione, ma liberaci ad amare amare. Non ho visto. Grazie. Buonasera. 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 Oh, che bel gelato. Buonasera. Buonasera. Come sono le pettole? Buonasera. 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 Sono buone le pettole? Buone il pro. Francesco. Ciao Alec. Ah, Francesco. Rob. Grazie a tutti. No, vabbè, andrei, ok? Vado a dire lì, giù. Vado a dire lì, giù. E' un peccato, che devo stare qua. Signora, boccaccia calda! Vado a dire lì, giù. Vado a dire lì, giù. Signora, volete la boccaccia calda? Signora, con noi! Ciao! Buongiorno! 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 Grazie a tutti.